Italia-Brasile, stasera abbiamo, è un'occasione unica in sala, un ospite eccezionale, brasiliano autentico, Cosè Altafini! E mi sembrava giusto chiamare qui Cosè che è stato un grande campione del calcio, ha giocato tanti anni, grazie Cosè, vorrei metterti alla prova, con questo pappagallo siete brasiliani entrambi, io penso che forse tu riuscirai a fargli dire Brasil, Cosè mi ha detto noi pronunciamo male, come si dice? Si dice Brasil, però... Ah, come si dice? Brasil. Brasil, ecco. Però io ho sentito che pappagallo prima parlava sempre, diceva sempre Portobello. E è rimasto sul vecchio fuso orario, ormai lo so che dice Portobello, lo dice ormai a tutti, l'importante è fargli dire Cosè in 30 secondi noi diciamo Brasil, tu dici Brasil, prego, Cosè, saremo felicissimi, attenzione, puoi cominciare, Cosè, attenzione, 30 secondi, via! Brasil, 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 non è abituato, Brasil, 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 non riesce a far golli nemmeno al Tafini. Brasil. Tempo, purtroppo, purtroppo, non ce l'abbiamo fatto.